Il parco dello Stelvio è per tutti. Alla vigilia della stagione estiva si è dotato di numerosi ausili che consentiranno l'accesso a sentieri un tempo preclusi ai visitatori con problemi di mobilità. La possibilità di fruizione del patrimonio naturale da parte di tutti, afferma il direttore del parco Andrea Zaccone, rappresenta un obiettivo ambizioso, un importante passo verso la cultura dell'inclusività in generale. La tutela dell'ambiente naturale e la sua fruibilità sostenibile non possono prescindere dalla considerazione delle difficoltà insite nel vivere un ambiente spiccatamente alpino. Non solo, al crescere del bisogno di vivere la natura, soprattutto a seguito della pandemia, il parco ha risposto anche dotandosi di 8 giolette, 6 con assistenza elettrica, 2 giolette per bambini, 2 handbike e una mountain centraic che saranno a disposizione gratuita dei visitatori. È stato inoltre attivato il gruppo di volontari che collaborerà alla gestione logistica delle attrezzature. Per prenotare il proprio mezzo e richiedere un accompagnamento è possibile inviare un'email o telefonare al punto Info Torre Alberti o Unione Sportiva Bormiese che collaborano al progetto anche con l'associazione Dappertutto. Rendere accessibile la montagna vuol dire, nei sentieri già esistenti, capire se ci sono piccole barriere che possono essere rimosse, fare una buona manutenzione ordinaria, tenere pulito ed educare le persone ad accorgersi delle fragilità di persone spesso un po' lasciate a loro stesse e aiutarle, tirarle fuori di casa e portarle in montagna, commenta Walter Fumasoni, presidente dell'associazione Dappertutto e conclude, qui le cose si fanno tutti insieme e tutti insieme se arriva in cima.